Poema inusuale e imprevedibile, questo Pardes, Paradiso nel nome dell'autrice c'è il suo destino letterario. Leggere il dettato biblico della Genesi sulla propria misura di poeta, che interpreta, ma soprattutto intuisce. La meta, tradurre i pensieri del testo sacro in una leggibilità contemporanea. Un'ispirazione di umanità lontana dalla storia, nell'annullamento dello spazio-tempo, per respirare l'illuminazione del racconto eterno della creazione, il coraggio sfiora l'ardimento di capovolgere il senso della visione e suggerire l'umiltà di conoscere l'esperienza umana attraverso il rigore letterario del proprio nome, invertendo la prospettiva storica dell'esistenza, non più il passare del tempo, ma il sentire dell'essere. Dalla prefazione di Ottavio Rossani